Come risponde alle critiche secondo cui, insomma, una lettura dice che questa nuova IRPEF porta benefici solo al ceto medio? Cioè alla fine non siete andati poi distanti dal riproporre i famosi 80 euro del governo Renzi? Detto che fra l'altro non per forza è una critica, per esempio per Colanino non lo sarebbe. Prego. Ma intanto sono contento di sapere che qualcuno potrebbe, ma non è assolutamente detto, essere d'accordo con l'impostazione di questa riforma. Io sono un pochino stupito perché vedo che persone anche evolute e che, diciamo, per lavoro, per dovere istituzionale, seguono i fatti della politica, poi cadono giù dal pero improvvisamente, come è successo ad alcuni rappresentanti di categoria. Se non stava bene che il taglio delle imposte si concentrasse su IRPEF e su IRAP, forse lo si poteva dire. Quando è uscita la legge di bilancio, che all'articolo 2 specifica che questi 8 miliardi vanno destinati a IRPEF e IRAP, o addirittura se si appartiene a organizzazioni importanti, che quindi hanno un potere di lobbying, hanno un'interlocuzione anche informale con il governo, lo si sarebbe potuto dire prima. Tirlo dopo sinceramente a me fa sorridere, sorriderò da solo, ma insomma le critiche sono sempre tutte bene accolte e sono, come ho detto in qualche intervista, considerazioni che rispetto. All'interno del perimetro che la legge di bilancio definisce, cioè quello di un intervento su IRPEF e su IRAP, siamo riusciti effettivamente a trovare un accordo e sono stati incontri molto fruttuosi, molto interessanti, con un ottimo clima. Certo che si può sempre fare meglio. Tutti hanno manifestato l'esigenza di intervenire sulla classe media, senza naturalmente nulla togliere alle classi di reddito inferiore e infatti il meccanismo che è stato congegnato di revisione delle detrazioni, revisione delle aliquote, abbassa per tutti il carico fiscale, cioè la cosiddetta aliquota media. Non solo per tutti, cioè per tutte le classi di reddito, ma, e quella era una specifica richiesta diciamo del centro-destra, della Lega in particolare, per tutte le categorie di contribuenti, cioè dipendenti pensionati e autonomi, che hanno anche visto, diciamo, attraverso il meccanismo delle detrazioni, un'estensione della loro notaxalea. Pagnai, il reddito non convince nemmeno lei, se non sbaglio. Il problema dei farabutti, perché qua non si piace chiamarli furbetti, questi sono proprio dei farabutti del reddito, si può eliminare aumentando i controlli. Fra l'altro noi abbiamo mostrato che le percentuali esistono, ma sono basse, nel senso, è vero che gli si dà grande importanza, finiscono anche sulle prime pagine dei giornali, ma il numero di persone che si è rubato il reddito di cittadinanza non è enorme. Prego. Allora, ne approfitto per dire due o tre cosette che rimettano un attimo su dei binari quantitativamente e qualitativamente corretti questo dibattito. Intanto è vero che non si può parlare di riforma strutturale del fisco. Aggiungo che non se ne deve parlare, perché la riforma strutturale del fisco è in corso di lavorazione, nel senso che la Commissione Finanze della Camera sta lavorando la legge delega, che poi passerà al Senato, che poi verosimilmente verrà promulgata, a seguito a questa il governo emanerà dei decreti delegati, quei decreti verranno nelle commissioni competenti, cioè le commissioni finanze, per un parere, e alla fine verranno promulgati anche i decreti. E a quel punto ci sarà la riforma del fisco. Qui c'erano 8 miliardi da spendere, possibilmente non in contrasto con gli indirizzi che il Parlamento aveva espresso nel documento finale dell'indagine conoscitiva evocata dal collega Colaninno. Quindi non capisco la delusione sui risultati di una riforma che non c'è stata, perché ancora non ci può essere, ci sarà quando sarà lavorata dal Parlamento e ha in sé molti nodi controversi. Vorrei ricordare a tutti il tema, per esempio, dell'Imu. Abbiamo già ammazzato la ripresa del Paese nel 2012 con le imposte di carattere patrimoniale sui patrimoni immobiliari. Noi vorremmo evitare che questo risuccedesse. Poi, questo per chiarire un po' il concetto, mi dispiace da chi è stato deluso, ma nessuno ha detto, perlomeno non noi, che si stava facendo la riforma. La riforma è ancora in Parlamento in questo momento. Questo è un intervento del Governo che è assolutamente ben voluto perché taglia le tasse. Poi, naturalmente, è ovvio, i tagli delle tasse sono sempre insufficienti. Ma noi siamo i primi, se è per questo a dire, l'abbiamo detto fin dall'inizio, che una manovra da 23 miliardi in questo contesto forse non era sufficientemente espansiva. Lo abbiamo detto, siamo stati ascoltati, il Governo ha deciso di muoversi con maggiore prudenza, va bene così. Però, voglio dire che il 7 miliardi sono un pochino meno del 4% del gettito IRPEF. Quindi, se i contribuenti si trovano un pochino meno del 4% di carico fiscale, i conti tornano. Sempre per ragionare un attimo sulle cifre. Allora, certo che anche noi avremmo voluto che si arrivasse almeno a 10 miliardi di taglio fiscale. Perché? Perché con 10 miliardi se ne sarebbero potute mettere sull'IRAP 3, per tagliarla naturalmente. E questo è cosa avrebbe consentito? Avrebbe consentito di esentare tutta la filiera di contribuenti IRPEF, che sono anche i contribuenti IRPEF, quindi anche le società di persone e le società semplici. Ora, naturalmente, qua c'è una cosa che va rilevata, l'ha detta il collega Gubitosa. L'IRAP non è solo iniqua per il noto discorso, con la tassa sulle perdite, eccetera, eccetera. Obbliga anche una serie di contribuenti, quelli che sono soggetti IRPEF, banalizzo, i piccoli, autonomi, professionisti, commercianti, a elaborare una doppia contabilità, perché obbliga a tenere i conti con il doppio, cosiddetto doppio binario civilistico fiscale. Il beneficio in termini di alleviamento della burocrazia, cioè nel non dover compilare per niente il quadro di IRPEF, molto superiore. Va considerato che noi abbiamo anche esplorato, grazie al lavoro eccellente dei vari tecnici del MEF, sono stati molto, molto solleciti nel farci vedere tutte le possibili opzioni in campo, anche ipotesi di taglio orizzontale, cioè deduzioni su tutta la platea dei contribuenti. Sinceramente queste ci convincevano di meno, perché comunque avrebbero mantenuto un peso burocratico su delle categorie di contribuenti che invece volevamo andassero esentate. Grazie per tutti i chiarimenti, fra l'altro sono tutte cose di cui abbiamo parlato finora e lei ha fatto bene a puntualizzare. Ma, diciamo, ritornando alla domanda precedente, per arrivare a quei 10 miliardi che lei si sarebbe augurato per averne tre per tagliare l'IRAP, da dove bisognava andare a prendere i soldi? Nel senso, escludendo altro deficit, anche se lei in parte ha detto che si poteva anche fare, tagliare dal reddito di cittadinanza? Che poi lì è solo uno, però. Io non avrei ascuso altro deficit, voglio dire che per quel che riguarda gli interventi in materia pensionistica, che sono non solo quota 102, ma anche il prolungamento dell'APE sociale, il prolungamento di opzione donna, tutto insieme il pacchetto fa 600 milioni. Quindi non è che... Sinceramente il rifinanziamento per un miliardo del reddito di cittadinanza è sembrata una misura forse sproporzionata. Io però non sono di quelli che ragionano in termini di furbetti o farabutti. Quindi, diciamo così, tendo a separare l'economia dalla morale, il codice penale, dal codice civile e dalle leggi e dalla manovra di bilancio. Se qualcuno ha commesso degli illeciti, deve essere ovviamente sanzionato secondo i regolamenti. Qui c'è un tema di controlli. Apro e chiudo una parentesi, visto che se ne parla spesso, per ricordare che i controlli li fanno le persone e che gli stipendi delle persone che fanno i controlli sono spesa corrente, per cui quando sento certi economisti, certi politici, certe associazioni lanciarsi in una sacra battaglia contro la spesa corrente, mi viene sempre da pensare state attenti a quello che state chiedendo, perché meno spesa corrente significa... I controlli hanno un costo. Sono stipendi di persone. Meno agenti delle imposte, meno ispettori del lavoro, meno insegnanti, meno infermieri. Questo è, purtroppo, contabilmente. Mi taccio. Il 2020 Il 2020 Il 2020 Lo Il 2020 Il 2020 Il 2020 Grazie a tutti.